Buonasera, benvenuti, benvenuti allo Studio Z, la più grande discoteca della Lombardia. Grazie, benvenuti. E andiamo con le dediche, dedicato da Pino WhatsApp a Susanna Messaggio. Ti prego, scrivimi. E ci vediamo domani mattina alla Sagra della Verruca. Mi raccomando, venite con le ciabatte. Sì, benvenuti. E la luma sporta a te. Vada avanti. Benvenuti, con il seguito allo Studio Z. E ora un annuncio, per cortesia, qualcuno avvisi il signor Giulio di cambiare la pila all'amplifon perché sta ballando un Alligalli fuori tempo. Vede, allora, grazie. Non applaudite. Non applaudite, grazie voi, porca miseria. Cosa è venuta a fare? E sono qui per presentare il mio nuovo LPC di 334578 del titolo Franco Rossi e i corsari della Polka and France. Che potete ascoltare a casa nel vostro Mangiacassette, grazie. Mangiacassette, sono vent'anni che non c'è più Mangiacassette. Bello, c'è più Mangiacassette, grazie a tutti.